Un forte stress psicologico che Martina non sarebbe stata in grado di sostenere, un doppio rifiuto che l'avrebbe riportato in uno stato di forte angoscia. Ha avuto un approccio con un ragazzo e il ragazzo a un certo punto ha detto io domani parto e ho la fidanzata che è un congetto. Il ragazzo che era con lei in camera, sia l'Albertoni, l'ha manifestatamente rifiutata. E questo, dal momento che ne disturbo le personalità, ciò che è sofferenza e la sensazione dell'abbandono, del rifiuto, ha scatenato la reazione dell'acting out con il gesto drammatico. Per il dottor Aldo Darco, psichiatra consulente della difesa di Alessandro Albertoni, a processo assieme a Luca Vanneschi per la morte della giovane genovese precipitata il 3 agosto 2011 dal sesso piano di un hotel delle Baleari, la studentessa soffriva di un disturbo borderline e non di un disturbo ossessivo, come invece aveva sostenuto in aula il dottor Pietro Ciriberti, lo specialista che aveva avuto in cura la ragazza. Secondo lei Martina Rossi si è suicidata? Certamente. Martina, secondo l'accusa, sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro da parte dei due imputati, accusati di morte in conseguenza di un altro reato. Per la difesa invece si trattò di un suicidio. Non potendo dire che negli ultimi due anni di vita di Martina, Martina ha avuto alcunché come problematica, si è tirato fuori questa tesi del disturbo borderline, sostenendo che è un disturbo subdolo perché è capace di rimanere sotto traccia anche per due anni e di spuntare proprio guarda caso quando sei in vacanza, lasciando tutti interdetti e portando a suicidarti. Questa è una non diagnosi di un non disturbo che si commenta da sola, non mi faccia dire altro. Prima di Darco questa mattina è stato ascoltato Carlo Nencioli, investigatore privato incaricato dalla difesa di esaminare le intercettazioni ambientali raccolte nella sala d'aspetto della procura di Genova. Sotto la lente di ingrandimento la frase pronunciata da Alessandro nella quale si faceva riferimento al fatto che non fossero stati trovati sul corpo di Martina segni di violenza sessuale in un momento nel febbraio 2012 in cui l'ipotesi di tentativo di stupro non era stata ancora ipotizzata. Albertoni rimasto solo dentro l'ufficio della polizia della questura di Genova durante un momento di assenza della dottoressa Bono c'era una cartella sopra il tavolo e ha letto in un foglio che era sicuramente un carteggio nato che sul cadavere della povera Martina Rossi non erano presenti segni di violenza sessuale. Che lui possa aver letto da quanto lo deducete? È lui che lo dice, che ho letto. Ho detto ho letto proprio, lo dice lui e oltretutto mi manca l'amico Vanneschi, mi manca il fatto con le mani di aver letto.